Ciao ragazzi e benvenuti al Gormiti Show! Giada, io oggi sono emozionatissimo, ma ci troviamo alla fiera G come giocare a Milano! Esatto, vi aspettiamo, è facilmente raggiungibile, siamo al padiglione numero 3, stand C02! Esatto, alla fiera Milano City! Ragazzi, qua è una meraviglia! Io respiro già l'aria natalizia e guardate un po' dove siamo! Ma qui sopra di noi c'è Lord Carrion! Qui ci sono già un sacco di bambini con noi! Ci sono davvero tantissimi bambini che stanno giocando adesso con i Gormiti, ve li facciamo vedere, venite con noi! Allora, qui c'è l'angolo Gormiti, ragazzi! Esatto, qua possono giocare, potete vederli di persona, toccarli! Potete giocare con i collezionabili, potete giocare con gli 8 cm! Abbiamo anche la torre, abbiamo anche la torre! C'è la torre degli elementi! Adesso vi facciamo vedere cosa c'è da questo lato! Guardate un po', eh! Eccoci qua, allora! Wow, Giada, ma io guarda, sono davvero emozionatissimo! C'è un sacco di gente, davvero! C'è un sacco di gente ed è sabato mattina, quindi oggi speriamo venga ancora ancora più gente, vero? Se voi siete a casa e ci state guardando, mi raccomando, alzatevi e venite subito qua da noi! Sì, vogliamo qui a Milano! C'è gente che è arrivata anche da lontano! Sì, davvero, hanno preso treni! Aerei! Ragazzi, guardate un po' lì chi c'è! C'è il nostro amico Lord Carion! Che adesso vi presentiamo! Esatto! Perché se venite con noi... Ci sarà una sorpresa! Se venite con noi, ve lo presentiamo dal vivo! Sì, potrete fare anche le foto insieme a lui e conoscerlo anche lui dal vivo! Esatto, potete conoscere Lord Carion dal vivo che è qui! Ragazzi, c'è Lord Carion! Ciao, Lord Carion! Grazie per essere venuto qui con noi! Grazie mille! Sei stato gentilissimo! Lui è arrivato, ragazzi, pensate, direttamente dal cartone animato! Sono per voi! Adesso, ragazzi, vi facciamo vedere... Adesso andiamo in un'altra area! Andiamo nella nostra area e vi facciamo vedere cosa faremo oggi! Ci sono già anche qua tantissimi bambini che ci stanno aspettando! Ma guardate la bellezza del nostro stand, ragazzi! È grandissimo! È grandissimo! Ci sono i gormiti ovunque, ci sono un sacco di bambini e io, ragazzi, sono davvero emozionato! Sono emozionato! È un sogno! Oggi è davvero un sogno! Ma guardate qui, abbiamo pure... La torre degli elementi! Direttamente dal nostro studio! Ma adesso, Giada, andiamo avanti un attimo col programma! Sì, abbiamo tantissimi appuntamenti oggi! Ci saranno un sacco di cose da fare! Iniziamo col primo! Vai! Allora, dalle 11.30 alle 12.30 faremo i tattoo artistici! Esatto, a tutti i bambini e anche i genitori, perché no? Gli affezionati dei gormiti faremo il tatuaggio dei gormiti! Disegneremo il logo dei gormiti e disegneremo anche gli elementi! Esatto! Poi, 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 dalle 13.00 ci prepariamo al palco centrale! Sì, ed è il momento più importante della giornata! Esatto! Perché faremo la prima diretta del Gormiti Show! E potrete essere voi i protagonisti insieme a noi! Faremo il Gormiti Show live! Ragazzi, possono partecipare tutti i bambini e anche i genitori hanno firmato il liberatorio, quindi saranno presenti i protagonisti insieme a noi a questo bellissimo show! E voi da casa potete comunque farci domande e risponderemo a tutte le domande! Potete interagire, farci delle domande! Intanto quello che adesso sentiamo è la parata! Perché noi oggi pomeriggio alle... Già daiutami! Alle 14.30 alle 15.00 noi saremo all'area accesso! Giusto! Saremo all'area accesso! Alle 15.00 alle 16.00 i bambini che non sono riusciti a fare i tatuaggi... Possono venire nel nostro padiglione e li faremo! Esatto! Possono tornare qua e faremo ancora i tatuaggi! Vi faremo il logo dei Gormiti, gli elementi e tutto quanto! Dopodiché... Alle 16.00 invece ci sarà la parata! Come abbiamo detto prima! Ci sarà la parata insieme a Lord Carrion! Saremo felicissimi di sfilare insieme a lui! Potrete venerlo dal vivo ragazzi! Ragazzi voi potete venire e toccare Lord Carrion! È altissimo! Cioè guardate! Allora Giada va bene! Giada è bassa! Io sono un po' più alto e no ragazzi sono... È troppo grande! Anche Lord Carrion è più alto di me! Visto! Lord Carrion sei altissimo! Ma io come faccio ad arrivare a prenderti? Non posso! Ragazzi lui è uno dei Lord più forti! Ma lo sapete che è davvero muscoloso? Mamma mia! Mamma mia! Che muscoli! Ma quanta palestra fa? Tu fai più palestra di me! Poi Lord Carrion se permetti mi racconti cosa mangi? Perché io voglio diventare muscoloso come te? È alta! Io è alta! Io vorrei diventare alta! È impossibile diventare alta! Comunque continuiamo! E come ultimo appuntamento ce l'abbiamo alle 17! Esatto! A 17 noi finiamo la giornata e faremo un'altra bellissima diretta! Proprio qui dallo stand! Esatto! Vi spieghiamo cosa abbiamo fatto! Io ragazzi sono davvero emozionato! Cioè ripercorreremo i momenti più belli della giornata! Vi racconteremo cosa abbiamo fatto! E poi ovviamente se guardate le dirette vedete anche voi dal vivo cosa stiamo facendo! Esatto! Intervisteremo anche i bambini! Intervisteremo i bambini! Chiediamo cosa gli è piaciuto di più oggi! Chiederemo qual è il loro supereroe preferito! Se hanno un elemento particolare che gli piace! Insomma faremo una giornata mega gormitica! Quindi mi raccomando seguite le nostre dirette! E se siete a Milano dovete venire assolutamente qua alla fiera! E se siete a Milano se siete di passaggi! Guarda ragazzi è veramente facile da raggiungere! Si trova la metro Portello! Con la metro Lilla scendete e ve la trovate davanti! Davanti è impossibile non vederla! Io penso che sia un bel evento proprio da passare con la famiglia e i genitori! Ma ora ragazzi mi dice Lord Carrion che deve salutarci! Deve andare! Ma ci vediamo dopo allora! Allora salutiamo tutti i bambini e ci vediamo più tardi! A dopo! Salutiamo Lord Carrion! Ciao! 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 Lord Carrion ci vediamo dopo! Lord Carrion già ci abbandona ragazzi! Sta andando! Deve conoscere un sacco di bambini qua! Secondo me invece va a prepararsi! Perché anche lui è emozionato! Non vi credete che lui fa quello forte Giada? Però anche lui è emozionato ha dei sentimenti! Ma ci credo! Guarda quanti bambini ci sono! Bene ragazzi ci dico che non abbiamo chiudito la diretta! Io avrei parlato ancora per ore! Però ci vediamo dopo perché alle 13-15! Inizierà la mega diretta del Gormity Show! La prima volta! Mamma mia me dolora! Ci vediamo dopo! Ci vediamo! Ciao!